Come installare Linux Mint o un'altra distribuzione GNU Linux in modo facile, passo passo per un principiante e inesperto di informatica, sia da solo che a fianco di Windows, con le più semplici operazioni tra le tante possibili. Ciao, non so se hai già visto i miei video, sono Dario di Alternativa Linux. Nel video preinstallazione di Linux ho chiarito concetti legati al BIOS del computer, la cui conoscenza è indispensabile per installare un nuovo sistema operativo. Ho descritto come creare una chiavetta USB per l'installazione e come avviare da essa il PC senza toccare l'hard disk. Do per scontato che tu sia già in grado di avviare una sessione live, che abbia verificato che tutto funzioni e che tu sia pronto ad avviare l'installazione di Linux. Nel video installo Linux Mint, diffusamente consigliata a nuovi utenti Linux per un passaggio indolore da Windows. Ma il sistema di installazione spesso non differisce da quello di altre cosiddette distribuzioni GNU Linux facili. Oltre a Linux Mint ne ho descritti altri in Distribuzioni Linux per principianti 2023 e per computer davvero vecchi in Sistemi operativi Linux leggeri e a 32 bit. In questo video vediamo la modalità prevista da Linux Mint 21.1 Cinnamon per arrivare al risultato con il minimo sforzo, sia per installare solo Linux nel computer, sia per mantenere ancora per un po' il vecchio sistema operativo. Puoi prendere confidenza con Linux, accedere ai documenti salvati in Windows e trasferirli a Linux prima di dire addio all'altro sistema operativo. Nel prossimo video, per approfondire i meccanismi di avvio e gestione di Linux o per esigenze particolari, vedremo come installare Linux creando manualmente le partizioni del disco invece che lasciare il compito alla procedura automatica. Tieni sempre la chiavetta USB preparata con il sistema operativo perché è utilissima in tante circostanze. Sono inclusi programmi che possono essere usati come si dice in live, anche senza installazione e solo da USB. Strumenti come Gparted e Boot Repair sono in grado di risolvere problemi di avvio sia di Linux sia di Windows o modificare partizioni. Doppio clic sull'icona posta sul desktop e la procedura di installazione si avvia. Il primo passaggio richiede l'indicazione della lingua. Viene usata per l'installazione e per la configurazione del sistema operativo. Selezionata la lingua, le impostazioni della tastiera si adattano automaticamente ma restano modificabili. Adesso, se il tuo computer è già connesso ad internet con un cavo di rete dal modem router e riceve un indirizzo IP, probabilmente una notifica nei primi momenti dell'avvio della sessione live mostra che sei già collegato ad una rete. e ne hai conferma se vedi tra le applet quella della connessione via cavo. Altrimenti, una schermata invita a connettersi ad una rete wifi nel raggio di azione. Seleziona la tua rete wifi, indica la password e attendi la notifica di conferma. Una raccomandazione, non ignorare la connessione ad internet in questa fase. Potresti non installare tutte le traduzioni e i software necessari al tuo PC per funzionare correttamente. Se non puoi connetterti perché il wifi non funziona o potrebbe servire un programma driver che va comunque scaricato in qualche modo, suggerisco il ricorso alla modalità tethering USB del tuo smartphone. Talvolta consente di scaricare l'appropriato driver per far funzionare il wifi o altro tipo di connessione. Fai riferimento al manuale dello smartphone. Connetterlo via USB con tethering USB attivo consente di condividerne la connessione all'istante. Tieni presente che potresti dover scaricare fino a circa 500 MB durante l'installazione e aggiornamento. Dopo la connessione alla rete, segue l'opzione per installare codec multimediali. Si tratta di software gratuiti ma protetti. Includono il supporto per MP3, MP4, DVX e tanti altri formati audio e video cosiddetti proprietari. Ottimo che si possa scegliere se fare a meno di software non open source. Io però consiglio di includerli per non avere più alcun problema con audio e video. Attendi fino ad un paio di minuti prima di vedere la schermata successiva. Perché nel frattempo la procedura di installazione ha verificato la situazione del tuo computer. Puoi installare solo Linux oppure affiancarlo a Windows o Mac OS nella modalità chiamata Dual Boot. Se la presenza di Windows non viene rilevata, di solito è perché si cerca di installare Linux in modalità UEFI con GPT in un sistema configurato con legacy BIOS e MBR. Ho chiarito questi aspetti nella preinstallazione di Linux. Linux da solo pone meno problemi durante l'installazione e anche successivamente, perché arroganti aggiornamenti di Windows possono talvolta creare problemi alla convivenza. Fatto un backup dei documenti Windows da salvare, cancella il disco e installa Linux Mint è la strada più semplice. Raccomandabile se vuoi sbarazzarti del tutto di Windows o se hai un altro computer con Windows. Con l'affiancamento, invece, potrai accedere alle cartelle documenti di Windows mentre usi Linux, ma non potrai accedere da Windows alle cartelle Linux senza ulteriori accorgimenti. La cancellazione del disco elimina qualunque altra cosa ci sia installata e salvata, ed è la strada che suggerisco. Essa propone anche caratteristiche avanzate opzionali. Queste non le consiglio ad un principiante inesperto. Ecco però un'infarinatura per approfondire. LVM è un interessante sistema di gestione di hard disk nativo di Linux che consente, tra le altre cose, di gestire partizioni differenti come un unico spazio di archiviazione, ridimensionarle mentre sono in funzione, condividerle efficacemente con altri sistemi operativi Linux e anche decifrarne l'intero contenuto, per renderlo inaccessibile al di fuori di Linux. ZFS è un altro potentissimo file system originariamente non nativo di Linux, utilizzato anche da altri sistemi operativi liberi come FreeBSD. Penso che i punti di forza di ZFS non possano essere forse sfruttati da un utente comune nel suo PC. L'opzione Cifra l'installazione di Linux Mint per maggiore sicurezza è selezionabile solo con LVM o ZFS attivi. La cifratura consiste nel sottoporre l'accesso al contenuto di qualunque informazione memorizzata nel computer alla creazione di una password e alla sua digitazione all'avvio del sistema. Se il computer è spento, persino l'estrazione dell'hard disk per collegarlo esternamente non consentirà di estrarre alcun dato. Scegli se cifrare l'installazione con LVM sapendo pure che se dimentichi la password recuperi l'hard disk ma puoi dire addio al suo contenuto. Inoltre è noto che la cifratura dell'intera installazione possa creare problemi con schede Nvidia. Se non hai ancora voglia di approfondire, non cifrare l'installazione. Più avanti suggerisco comunque la cifratura della cartella home che contiene quelle degli utenti creati e rispettivi documenti. Una volta che accendi il computer e digiti la tua password i contenuti ci sono. Senza questa non sono estraibili. Anche l'opzione altro per creare manualmente le dovute partizioni la sconsiglio ad un principiante assoluto di Linux. Tratto la creazione manuale delle partizioni nel mio ebook Linux Mint 20.3 installazione e configurazioni, ma anche nella seconda edizione aggiornata a Linux Mint 21.1 presto nelle librerie. Nel prossimo video sceglieremo l'opzione altro ed il partizionamento manuale. Vedremo le ragioni che talvolta rendono preferibile seguire questa strada e come farlo. Se invece della cancellazione del disco scegli l'affiancamento a Windows e non hai riservato lo spazio per Linux dall'interno di Windows, come ho suggerito, la schermata successiva consente di trascinare una maniglia per ridimensionare le partizioni in modo molto intuitivo. Non lasciare a Linux meno di 60GB giusto per provarlo, ma direi da 100-120GB minimi a salire se vuoi usarlo assiduamente, installare programmi aggiuntivi e salvare documenti nelle sue cartelle. Se invece scegli la cancellazione del disco il precedente passaggio non c'è. In entrambi i casi l'installazione ti avvisa delle partizioni che crea prima di riversarvi il file di sistema. Il passo successivo è l'identificazione del fuso orario da adottare per l'orologio. Preimpostato in base alla selezione della lingua è modificabile cliccando su un differente meridiano del mappamondo. Arriva il momento di indicare il nome del computer ed i dati dell'utente principale. Indicato il nome, nome computer e nome utente vengono precompilati automaticamente ma puoi modificarli. Indica e conferma la password che userai per accedere al computer ma anche per installare nuovi programmi o modificare impostazioni di sistema. La procedura guidata suggerisce di lasciare selezionato l'accesso tramite password all'accensione, in alternativa all'accesso automatico. Anche io suggerisco certamente di fare così. Anzitutto, chiunque acceda al tuo PC avrebbe completo accesso al suo contenuto, senza questo accorgimento, e questo già non è bene. Inoltre, per sbloccare il cosiddetto lucchetto di sicurezza di alcuni browser, dovresti comunque digitarla prima di entrare in internet. Per finire, l'accesso automatico salta completamente il menu di avvio di Linux, da cui si può accedere all'occorrenza alle opzioni avanzate. Situazione utile in caso di problemi subito dopo l'installazione o dopo un aggiornamento problematico. Quindi attiva richiedere la password personale per accedere. E aggiungi il segno di spunta su cifra la mia cartella personale. La cifratura della cartella home rende indispensabile la creazione e digitazione di una importante password supplementare perché i dati vengono crittografati con tale password. Questo consente di rendere inaccessibili in qualunque altro modo i documenti salvati nelle cartelle personali. Accorgimento che permette di portare in giro informazioni sensibili nel migliore dei modi anche per profili di responsabilità che al giorno d'oggi possono derivare dal perderle o farsele rubare. La cifratura della cartella personale è sconsigliabile se installi Linux in dual boot. Non ho verificato di persona ma in rete sono segnalati alcuni problemi a Windows in questo scenario. Un'altra valida ragione per dire addio a Windows nel tuo computer con Linux. Cliccando su Avanti non resta che attendere la copia dei file dalla chiavetta all'hard disk e lo scaricamento e configurazione necessari per le caratteristiche del tuo computer. Magari intrattenendosi con la presentazione del sistema operativo. Con Linux Mint non dovrebbero essere necessari più di 5-10 minuti prima di vedere apparire la conferma della fine installazione. Premi riavvia ed il PC si avvierà dall'hard disk invece che dalla chiavetta USB. In uno scenario di dual boot può succedere che si avvia ancora solo Windows. In tal caso verifica prima che l'avvio rapido di Windows sia stato disattivato ed il sistema arrestato completamente dopo un riavvio. E casomai verifica nel firmware UEFI l'ordine della sequenza di boot. Anteponi nel firmware UEFI l'avvio di Linux a quello di Windows, salva e riavvia. Oppure premi il tasto funzione che fa apparire il menu di boot nel tuo PC. Sono tutte cose che abbiamo già visto in preinstallazione di Linux. La schermata di grab potrà presentarsi in una forma simile a questa. In ogni caso avrai un menu di avvio che prevede l'avvio normale di Linux, una modalità di opzioni avanzate che può tornare utile in caso di problemi, una riga per avviare Windows se mantenuto, infine quella per l'accesso alle impostazioni del firmware UEFI. Selezioni con le frecce direzionali sulla tastiera e confermi con invio. La prima opzione, evidenziata automaticamente, si seleziona da sola entro 10 secondi. Premi subito invio per non attendere. Dall'invio in poi scoprirai un nuovo mondo, fatto di aggiornamenti e sicurezza superiori, software libero, gratuito, facile e di alta qualità per fare davvero di tutto. Con Linux Mint Cinnamon per cinque anni il sistema operativo, la sicurezza e tutti i programmi, dal browser fino all'ultimo di quelli che installerai dal suo centro software, si aggiorneranno con un click, senza interromperti o bombardarti di notifiche per distrarti da quello che vuoi che il tuo computer faccia per te. Adesso puoi seguire la post installazione, che sarà presto aggiornata, e le altre configurazioni suggerite. Oppure scoprire come fare di tutto con Linux Mint nel mio ebook Linux Mint 21.1 manuale d'uso. Felice per la tua conquista, ti ringrazio per aver visto il video e ti auguro una buona scoperta di Linux. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!